Proprio nella giornata di ieri è uscita l'ultima ordinanza del Presidente della Regione Campagna, De Luca, un'ordinanza che mette un coprifuoco. Infatti adesso durante la settimana c'è una chiusura imposta alle 11 per i locali e nei fine settimana alle 24. Ma cosa vuol dire questo per i locali? Siamo sulla riva destra. E' certo, è sempre un problema chiudere prima perché oggi la gente è abituata a mangiare a qualsiasi orario quindi non è che puoi obbligare la gente a mangiare fino alle 10 e poi è finita là perché la gente muoce pure a mezzanotte, a luna di notte, a qualsiasi orario è abituata a mangiare quindi giustamente è un problema per noi ristoratori chiudere quell'ora. Io non penso che questo risolva i problemi dell'orario, la chiusura, il problema sicuramente aiuta la distanza, le mascherine, tutte le precauzioni che sono state decise. Però sicuramente a noi ristoranti il danno è minore, ma il danno più grande per i pub, per i bar che iniziano a lavorare alle 11, a mezzanotte, lì il danno è abbastanza notevole. Penso che questo non risolve il problema del Covid. Ovviamente è una penalizzazione perché insomma dalle 11 che possiamo accogliere gli ultimi clienti, questa cosa ci mette un po' in difficoltà, però ci rendiamo conto che per la sicurezza è meglio rispettare tutte quelle che sono queste ordinanze. Allora, per quanto riguarda i ristoranti, questi sono meno in difficoltà rispetto a quelle che sono i bar ed esercizi similari, perché la Movida più o meno inizia a mezzanotte, quindi a mezzanotte questi non possono accogliere più clienti, anche nel fine settimana. Quindi i più penalizzati sono i bar e i similari. I ristoranti più o meno siamo sulla borderline, cioè nel senso che alle 11 più o meno si finisce di cenare. Quindi per i ristoranti è un discorso molto marginale, mentre per i bar e i similari vanno sempre più in difficoltà. Si sta mettendo un po' tanta paura come nei mesi scorsi alle persone. Ovviamente nessuno esce più di casa, quindi si ferma il tutto. Non ci stanno chiudendo, ma di riflesso ci hanno già chiusi. Deve prevalere un po' di buonsenso da parte di tutti quanti. Si vedrà cosa andremo incontro. Il problema non è il ristorante e il bar in sé per sé, è tutto il sistema che secondo me è sbagliato. Perché se noi guardiamo le palestre, tutti a fare ginnastica, senza protezione, le mascherine, le dovute precauzioni di sicurezza, è la stessa identica cosa. Io penso che la Mela Marcia non è il ristorante e la discoteca in sé per sé.